Michael! Domani sera, la prima parte di un nuovo episodio di Supercar. Ho bisogno di un cavaliere per stasera. Sono tutto tu. Un altro piccolo sforzo ed è fatta. Vai! Dopo Supercar, Manimal. State giù! Qualcuno ha cercato di uccidere, il che significa che ha diritto alla protezione della polizia. Polizia, perdi! Supercar e Manimal. I supereroi di ogni sabato vi aspettano domani sera su Italia 1 a partire dalle 23.